Grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del Consiglio Comunale di Alassio alla cittadinanza onoraria, alla Polizia di Stato che verrà rappresentata dal Questore di Savona in rappresentanza del Prefetto Gabrielli e abbiamo raggiunto l'unanimità dei votanti, dei partecipanti di tutto il Consiglio Comunale presente, di tutti i gruppi dispiace che episodi vergognosi come quelli che sono accaduti a Imperia diano discredito a una città come Imperia che non meritava una posizione di questo tipo di alcuni elementi della minoranza e che danneggia tutti i cittadini di Imperia Credo che Alassio questa volta possa dare un esempio di coesione e di attaccamento a un'istituzione come la Polizia di Stato che lavora sul territorio per difendere i cittadini e per promuovere quello che è la sicurezza del territorio Grazie! 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 Grazie!